Roma, Algeria, Tunisia, Brettonia, Stati Uniti, Romania, della Turchia, è una cosa veramente difficile da raccontarvi per chi non lo vive e vi posso dire che anche grazie a quello, come uno tanto tempo fa siamo pure riusciti a fare numeri davvero importanti perché all'improvviso ci siamo trovati che ogni notte in modo particolare, perché il fuselario non lo so se non permettiva riusciamo ad avere davvero tante persone connesse contemporaneamente che partecipavano a queste che erano le nostre iniziative e niente, Vila vi saluta, vi ringrazio di essere stati qua, ovviamente tutti freddi perché adesso da Vila passiamo al disco riusciti che misceliamo insieme, misceliamo un po' queste due lauta che in qualche modo sono andate insieme e terminate, direi che soltanto di avere un minuto di pazienza, per esempio cambiamo un minuto e lo organizziamo e veniamo subito. Grazie.